Una delle tante belle cose del vivere a Cagliari è che qui in Sardegna non ci sono i grandi centri commerciali a 20.000 piani con la superficie che è quella di una piccola cittadina di provincia. Sì perché a me questi posti fanno venire l'angoscia e non lo dico così per dire mi viene proprio fisicamente sto male prima di tutto perdo l'orientamento non so più dove andare non riconosco più i punti di riferimento miei non trovo l'uscita e più giro a vuoto e più mi nervosisco e più mi nervosisco e meno riesco a trovare l'uscita. Mi è capitato diverse volte appunto persa in uno di questi giganteschi e dico giganteschi centri commerciali di dover chiamare a casa per dire aiuto non riesco a uscire mi dici dove è l'uscita del parcheggio tal dettaglio eccetera. Perché ve ne sto parlando perché mi è tornato in mente il buon vecchio Gruen Victor Gruen un architetto austriaco che a metà degli anni 50 ha inventato il centro commerciale e è andato a costruirlo negli Stati Uniti. Forse abitava già negli Stati Uniti comunque ha costruito il primo centro commerciale e lui si è inventato tutte queste cose che noi vediamo adesso in ogni supermercato la musica per far trascorrere il tempo più lentamente mettere le cose che vogliamo che la gente compri più in vista mettere le gomme americane le batterie alla cassa e queste cose qua. Mettere la musica mettere le luci in un certo modo cambiare spesso la disposizione così che il cliente la cliente abbia senso sempre questo senso di ma dove sono ma cosa faccio che sono anche le stesse tecniche usate all'interno dei casino per far perdere la cognizione del tempo. Infatti c'è sempre luce innaturale non ci sono mai finestre non ci sono mai orologi così non si avverte il trascorrere del tempo. La cosa divertente, ironica più che divertente è che dopo aver creato tutto questo sistema il signor Victor Gruen aver stabilito come si fa a far rimanere una persona più a lungo nel centro commerciale si è reso conto che tutti i suoi insegnamenti erano stati stravolti per approfittare della clientela e quindi ha misconosciuto, si è rivoltato contro la sua stessa creazione. E oggi si parla di Gruen Transfer, effetto Gruen cioè quello che noi proviamo dentro il supermercato, dentro il grande magazzino che perdiamo un po' il senso dell'orientamento e veniamo presi anche da questa gioia dell'acquisto e compriamo cose che non ci servono. Ecco a me il Gruen Transfer fa venire un gran nervoso, mi fa perdere l'orientamento e non vedo l'ora di uscire e di scappare. Niente grandi magazzini per me, niente super centri commerciali.